C'è anche un teramano tra le 12 persone arrestate nell'ambito della maxi-operazione internazionale di contrasto alla pornografia minorile online, denominata Cucciola e coordinata dal Servizio Centrale della Polizia Postale di Roma. Si tratta di un 49enne della provincia di Teramo, disoccupato e convivente con l'anziana madre. In casa gli agenti della Polizia Postale hanno trovato 900 video e 150 immagini di minori tra i 4 e i 12 anni, abusati o comunque oggetto di pornografia. Il fascicolo è destinato ad approdare sul tavolo della DDA di L'Aquila, competente per il reato. L'attività di monitoraggio, supportata da informazioni ottenute dall'FBI tramite l'ambasciata USA in Italia, aveva inizialmente portato a individuare una casella di posta elettronica molto attiva nello scambio di materiale pedopornografico. Il responsabile è stato identificato in un 21enne di Genova, utilizzatore di un account che aveva chiamato Cucciola, da qui il nome dell'operazione, che ha portato, partendo da Genova, a una serie mirata di perquisizioni nei confronti di 12 cittadini italiani residenti tra le province di Torino, Milano, Como, Brescia, Padova, Verona, Piacenza, Campobasso, Palermo, Cagliari e Teramo.